Signori e signori, signore e signori, mi capisci comunque, il grande Cesario! Buonanotte, grazie. Volevo suonare con Cesario per tanto tempo perché il mio gruppo preferito è le storie tese, poi anche i Four Tiles, sai, i Four Tiles Band, però adesso possiamo suonare insieme e sono contentissimo, amico mio. Anch'io. Ah, lui ha detto, anch'io. Allora, adesso sono ornato e orgoglioso. E il problema è che quando i chitarristi hanno un microfono è sempre un problema, sai, è pericoloso. Ok, so, let's see, what do we have now? Ok, so now, divertiamoci. Come on! Come on! Ok, so, let's see, what do we have now? So, let's see, what do we have now? Oh, I just can't go out the door One more job, baby Oh, I just can't go out the door Cause it's a man, yeah Might be old man, I don't know Oh, I just can't go out the door I don't know about this time, I won't be trapped no more So raise your window, baby So I can ease up something slow Don't you think there's no way for me It's all kind of stuff, baby, no more Oh, here we go It's all kind of stuff, baby It's all kind of stuff, baby So my name's baby Oh, I just can't go out the door Oh, here we go 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.